Ehi, là c'è un soldato! Ho visto un soldato! Attenzione, attenzione, soldato nemico! Stiamo attenti, c'è un soldato! Vedo uno dei loro soldati! Soldato nemico individuato! Attenzione, quello è un soldato nemico! Un soldato nemico! Visto? Uno dei loro soldati! Ho individuato un soldato nemico! Vaggiù, quello è un trucco! Attenzione, attenzione, soldato nemico! Contatto visivo con un soldato nemico! Abbiamo attenti, c'è un soldato! Attenzione, attenzione, è un riferitore! No, quello è un riferitore! Alla stagione! Oh! No, non, non! Alla stagione... No, non! Alla stagione! Alla stagione! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.